ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi un video molto breve ma molto utile perché vi spiegherò come riutilizzare un vostro vecchio smartphone e trasformarlo in un eco show quindi in un vero e proprio assistente vocale in questo caso abbiamo davanti un huawei mate s un mio vecchio smartphone tra l'altro anche con la batteria praticamente andata e ho deciso di posizionarlo in questa dock lasciando ovviamente il caricabatterie attaccato ma non solo diciamo perché questo smartphone ha la batteria guasta ma anche nel caso in cui la batteria dovesse funzionare ragazzi vi consiglio sempre di lasciarlo collegato per evitare ovviamente che il telefono si scarichi perché ovviamente amazon alexa prevede un funzionamento continuo quindi senza che il dispositivo si spenga inoltre prima di continuare vi consiglio anche di disattivare lo spegnimento automatico del display perché il display dovrà stare sempre attivo se nel caso non dovesse esserci l'impostazione per disattivare totalmente lo spegnimento automatico del display vi consiglio di scaricare questa applicazione non screen off che ci aiuterà ovviamente a non far spegnere mai il nostro display perché qui sul huawei avevo un tempo massimo di 10 minuti che è veramente poco e anche inutile in questo caso comunque fatte queste premesse ragazzi richiamoci sul play store e andiamo a scaricare l'applicazione amazon alexa io ho l'abbonamento ad amazon prime di conseguenza avrò anche la possibilità di ascoltare direttamente dal mio smartphone diverse canzoni con amazon music ma comunque anche con un piano gratuito funziona senza problemi apriamo allora amazon alexa e questa qui sarà la schermata iniziale la schermata home come impostazioni ragazzi io vi consiglio di attivare su impostazioni su alexa su questo telefono ecco in questo caso denominato alexa quindi si è attivata le impostazioni mani libere perché ci permetterà di richiamare l'assistente vocale solamente parlando quindi senza premere alcun pulsante perché altrimenti dovremo premere ogni volta il pulsante per attivarla e nulla ragazzi già funziona tranquillamente adesso farò una piccola prova alexa che tempo fa a roma a roma lazio si prevede un allarme arancio per vento per lunedì 28 dicembre dalle mezzanotte alle 23 59 come vedete funziona tranquillamente è tuttora l'assistente vocale è attivo quindi se dovesse ancora dire la parola alexa quanti abitanti fa milano la popolazione di milano è di 1,37 milioni di persone come vedete la risposta è anche accompagnata da un'immagine o a volte anche da un video quindi come se avessimo un vero e proprio eco show a nostra disposizione questo è tutto ragazzi già abbiamo un assistente vocale come vi ho detto mi raccomando tenete il telefono sempre sotto carica e sempre con lo schermo attivo ho riscontrato alcuni problemucci ad esempio con il timer perché ho provato ad impostare diversi timer e diverse sveglie ma non mi suona il telefono quindi non so se è un problema legato al mio smartphone in particolare o all'applicazione non non saprei inoltre un'altra differenza con il dispositivo originale sta nel fatto che noi no è difficile riuscire a stoppare l'assistente quando parla quindi non ci riconoscerà subito la la voce in questo caso ad esempio se adesso richiamo alexa raccontami una barzelletta alexa alexa ok adesso me l'ha riconosciuto ragazzi quindi molte volte non funziona però altre volte si è nulla ragazzi questo è tutto come vedete funziona veramente benissimo non sono non ho riscontrato grossi problemi all'infuori del timer e della sveglia a volte magari se facciamo partire qualche canzone poi richiamiamo l'assistente vocale con molta probabilità non ci sentirà anche perché non abbiamo ovviamente il microfono del dell'eco show quindi un microfono ad alta sensibilità ma comunque per un utilizzo così molto molto normale va va più che bene io ripeto l'ho posizionato in una libreria e lo tengo sempre attivo e posso dirvi che l'esperienza è ottima fatemi sapere cosa ve ne pare di questo piccolo tutorial se avete domande o altre cose da dire riguardo questo funzionamento veramente molto simpatico scrivetemi giù nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con altri video ciao ragazzi ciao